Chi ha tu faccia l'uva? Che? Fate vedere un po'? No! Questa è la Lara, che sta facendo il muso. Adesso? Il Takso è una piccola, ecco. La Lara, che sta con l'emba. Un po' di bloco, un po' di bloco, un po' di bloco. La Lara, che fosse proprio la cule. Tanta velocità nell'azione di la ragù. 0-0-0-6! Il momento più sereno del mio inverno è stata quando mi ero rotta da 3 secondi il crociato ed ero serena. Grazie per la visione!